Musica Benvenuti al Palamarco Mascagni Under 15, oggi giocano di fronte Nova e Dinamo 2000 La Dinamo 2000 si presenta con una formazione di 12 giocatori Saba con il numero 6, Nurra con il numero 7, Usei con il numero 10 Murriti con il numero 14, Poggioni 19, Casterecchini 20, Peralta 21, Cedda 30 Marras 35, Murgia 40, Nigra 50 e Secchi 53 La Nova, no primi quintetti subito, per la Dinamo 2000 entra Secchi, Murotti Poi Nigra, adesso non si vedono bene, Usai, l'ultimo è Prima palla 2 per la Nova, primo pallone per la Dinamo 2000 con Nigra Prova ad andare, si fa passaggio per Usai, palleggio, scarica per il numero 53 Secchi, Murotti Poi Usai dentro, primo i due punti della match con la Dinamo 2000 che passa in vantaggio 2 a 0 Ora la Nova, Ettore Giannotti, Damiano Malleo sotto e segna Due pari, ora la Dinamo 2000 batte subito la rimessa, Usai Secchi Usai ancora, va dentro, alza la parabola Altri due punti per lui, 4 a 2 Subito però l'avanzata della Nova, Ettore Giannotti Damiano Malleo, va dentro Infrazione di passi per lui Rimessa per la Dinamo 2000 con Cedda Poi Usai Va a portare palla Ancora Usai Scarica per Secchi Poi Cedda Ancora Usai Va dentro, errore Poi rimbalzo di Cedda che sbaglia Ancora Valetore Giannotti Da solo, tiro, fallo Del numero 53 Secchi Due tiri per Ettore Giannotti Primi due della partita 2 a 4 il punteggio per la Dinamo 2000 Vediamo i tiri liberi di Ettore Giannotti Il primo Va 4 a 3 Vediamo il secondo Non va Rimbalzo di Damiano Malleo però Ora Edoardo Tiro di Davide Sbaglia Rimbalzo suo Passa Damiano Malleo Sotto per Ioris De Murtas Di nuovo per Damiano Malleo Grande azione della Nova 5 a 4 Ora però va subito la Dinamo 2000 Con Usai Ancora lui Palla per Murotti Va dentro Fermato Rimbalzo di Davide Sanna Ora è Ettore Giannotti Per Ioris De Murtas Terzo tempo In frazione di passi Passi per Ioris De Murtas Rimessa per la Nova Che è per la Dinamo 2000 Che è per la Dinamo 2000 con Muritti Per Usai Poi Secchi Ancora per Usai Ora c'è Edda Ettore Giannotti ruba palla Da solo E c'è il canestro 7 a 4 per la Nova Il punteggio Quando mancano 7 minuti Fallo di Davide Sanna Fallo di Davide Sanna Rimessa per la Dinamo 2000 con Muritti Ora Usai perde palla Damiano Malleo Va dentro Non c'è il fallo Rimbalzo suo Passaggio per Davide Sanna Ora Edoardo Ligia Va dentro Sotto mano E c'è il canestro 9 a 4 il punteggio Subito la Dinamo 2000 con Usai Poi Ancora Usai Per Muritti Poi Secchi A dentro no La scarica per Usai Va dentro Tiro errore Rimbalzo di Davide Sanna Che va a aprire per Edoardo Ligia Poi Ettore Giannotti Va dentro Si ferma Ripegioris de Murta Su grande canestro 11 a 4 il punteggio 6 minuti alla fine del primo quarto Ora Usai Per Secchi Palla dentro Per Usai Tiro da 3 di Secchi Errore Rimbalzo di Nigra che tira Errore Ora Iuris de Murta Davide Sanna Va a aprire per Damiano Malleo Ettore Giannotti Errore Poi rimbalzo di nuovo suo Davide Sanna La finta Ora Edoardo Ligia No Tiro piazzato La mette 13-4 Ora Subito il contropiede Della Dinamo 2000 Con il pallone Per la Dinamo 2000 Sulla deviazione Di Davide Sanna Team out Per Dinamo 2000 Piccola pausa E poi torniamo Anche in un pallone Per la Dinamo 2000 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 E poi tornare Per la Dinamo 2000 si ricomincia dopo il time out con il pallone per la Dinamo 2000 con Muriti alla rimessa fra Usai ancora dentro Usai scarica per il tiro da 3 di 53 secchi che va a segno 13 a 7 il punteggio Damiano Malleo scarica per Edoardo Ligio da fuori ancora 15-7 il punteggio per la Nova pronti un cambio per la Dinamo 2000 ora però avanti proprio la Dinamo 2000 con Nigra ora Usai scarica per Nigra passaggio per secchi intercettato da Edoardo Sanna Davide Sanna errore della Nova ora va avanti il numero 53 secchi che commette infrazione di passi esce il numero 50 Saba per la Dinamo 2000 entra con il numero e se il numero 50 entra con il numero 6 Saba ora Edoardo Ligio scarica per Damiano Malleo sotto per Ioris De Murtas va dentro Ioris De Murtas errore una sfortuna per lui ora Saba prova a partire per la Dinamo 2000 poi per Muritti che perde palla rimessa per la Nova pronti altri due cammine la Dinamo 2000 esce Muritti ed entra per alta e poi esce Cedda e entra numero 7 Nura pallone per la Nova ora no è già notte alla rimessa Ioris De Murtas prova ad andare dentro è stoppata di per alta rimessa per la Nova sotto per Ioris De Murtas ci prova rimbalzo di per alta che apre per numero 10 Usai poi il numero 7 Nurra che commette inflazione di passi rimessa per la Nova ancora Davide Sanna Ettore Gianotti pronto un cambio per la Nova va Ettore Gianotti si ferma scarica sotto per Damiano Malleo ancora per Ettore Gianotti alza la parabola errore rimbalzo di Saba prova ad andare ancora Saba poi palla persa Damiano Malleo pallone intercettato da Saba prova a chiudere la Nova poi palla per Secchi intercettato da Ettore Gianotti che apre per Davide Sanna da solo va dentro e fallo del numero 53 Secchi nel tentativo di stoppare Davide Sanna un cambio per parte per la Dinamo 2000 entra con il numero 35 Marra Marra e invece nella Nova esce 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 Eduardo Ligio entra con il numero 7 Mario salta la macchia tiro liberi per Davide Sanna errore sbaglia il primo e per il secondo va dentro 16-7 per la Nova rimessa per la Dinamo 2000 Marras per l'entrata di Peralta che va a segno 16-9 il punteggio ora Mario salta la macchia scarica per Ettore Gianotti c'è il fallo del numero 53 Secchi che esce al posto del numero 6 Saba è il terzo fallo di Secchi promessa per la Nova ora Ettore Lloris De Murtas Mario mande Mario salta la macchia va Lloris De Murtas sotto per Damiano Malleo poi Mario salta la macchia Davide Sanna scarica per Damiano per il tiro di Lloris De Murtas errore il balzo di Damiano Malleo sbaglia rimesso c'è il fallo di Damiano Malleo rimesso per la Dinamo 2000 con Llorra cambia nella nuova entra Edoardo Ligia esce Lloris De Murtas pallone per la Dinamo 2000 con Marras Saba va dentro scarica per Usai poi per Murgia no non Murgia scusate Marras tiro al canestro 16-11 il punteggio ora Damiano Malleo sbaglia il passaggio Saba dietro schiena ancora Saba dovrà passare il pallone per la Dinamo 2000 rimessa per la Dinamo 2000 affidata a Peralta che la passa praticamente non è mai restata la macchia da solo va dentro e non c'è il fallo rimessa per la Nova rimessa per la Nova con Ettore Gianotti che va per Edoardo Ligia e la stoppata di Peralta poi Saba sotto per il tiro di Marras che non va va Ettore Gianotti per Mario Solta la macchia alza la parabola l'errore rimbalzo proprio di Edoardo Ligia Ettore Gianotti prova a passare scarica per Davide Sanna che sbaglia ora va il numero 10 Usai per il passaggio per il numero 7 Nurra palla troppo forte rimessa per la Nova ora Ettore Gianotti per Edoardo Ligia inflazione di passi pronto un cambio per la Nova entra no esce Davide Sanna entra Alessio Salis con il numero 13 ora va la Dinamo 2000 con Marras Saba poi è un scarico un po' complicato Mario Solta la macchia prima di andare inflazione di piede rimessa per la Nova esce Saba entra entra con il numero 30 Cedda ora rimessa per la Dinamo 2000 Cedda Marras per per la Dinamo 2000 per la Dinamo 2000 non va rimbalzo di Ettore Gianotti Alessio Salis ferma in frazione di passi rimessa per la Dinamo 2000 con numero 30 led Cedda poi va Marras Usai in frazione di passi in frazione di passi per la Dinamo 2000 commessa per la Nova ora va Ettore Gianotti scarica dentro per Damiano Malleo Mario Solta la macchia ora Ettore Gianotti per Edoardo Ligia Damiano eh Alessio Salis tiro di Ettore Gianotti non va rimbalzo di per alta fa numero 35 Marras poi Usai 15 secondi alla fine del quarto va numero Petralca numero 21 segna 5 secondi 4 3 2 1 tiro errore fine primo quarto 16 a 13 per la Nova piccola pausa si ricomincia dopo la fine del primo quarto con la palla per la Nova Edoardo Ligia l'ha rimessa ora Mario Solta la macchia provo ad andare dentro sotto per Damiano Malleo palla persa avanzata di Pugioni no Pugioni poi il tiro da 3 di per alta non va rimbalzo di Mario Solta la macchia che prova ad andare fermato ora va la Dinam 2000 con Marras vado ad andare dentro tiro del numero 19 del numero 19 Pugioni non va ora Edoardo Ligia prova ad andare alza la parabola 20-13 20-13 il punteggio tiro libero supplementare per lui vedremo se andrà a buon fine e non va un po' di sfortuna per lui per alta rimbalzo ora Marras passaggio per Ceda poi va dentro il numero 7 Nurra errore rimbalzo della Nova palla per la Nova rimessa affidata a Mario Solta la macchia Ettore Giannotti poi Mario Solta la macchia scarica sotto per Damiano Malleo Alessio Salis ora Ettore Giannotti Mario Solta la macchia va dentro c'è il fallo del numero 19 Pugioni cambiano la Nova esce Ettore Giannotti entra Stefano Comiti applausi per Ettore Giannotti ora Stefano Comiti metti giù palla poi per Mario Solta la macchia poi Damiano Malleo Mario Solta la macchia salta per Damiano Malleo Edoardo Ligia tiro c'è il fallo del numero 19 Pugioni messa per la Nova Damiano Malleo Mario Solta la macchia prova e c'è il fallo di Marras tiri liberi per Mario Solta la macchia va Mario Solta la macchia fallo subito da lui primo tiro libero non va un po' di sfortuna secondo la stessa va a finire come nel primo ora va la Dinamo 2000 con Marras alza la parabola errore rimbalzo di Alessio Salis che prova a partire Edoardo Ligia va dentro sotto mano 22 a 13 per la Nova 7 minuti alla fine del secondo quarto ora va la Dinamo 2000 Marras per alto va dentro tiro e segna ora Mario Solta la macchia supera in velocità Marras poi scarica per Stefano Comiti Mario Solta la macchia per Damiano Malleo tiro errore rimbalzo di Stefano Comiti Mario Solta la macchia fallo del numero 19 Pogioni sono due tiri liberi per Mario Solta la macchia due tiri cambio nella Nova esce Damiano Malleo entra Ioris De Murtas secondo tiro libero non va rimbalzo di Edoardo Ligia sotto per Stefano 25 a 15 per la Nova subito l'avanzata della Dinamo 2000 Comaras falla rubata da Alessio Salis Edoardo Ligia sotto per Mario Solta la macchia Ioris De Murtas tiro corto rimbalzo di Peralta poi Marras Peralta poi Cedda tiro del numero 19 Pogioni errore rimbalzo di Ettore Giannotti non c'è in campo scusate per Mario Solta la macchia poi errore di Stefano Comiti errore di Mario Solta la macchia il pallone è per la Dinamo 2000 cambio nella Dinamo 2000 esce Nurra cedda e entra no time out piccola pausa si rientra dopo il time out rimessa per la Dinamo 2000 Maras Usai sotto per Peralta e segna 25 a 17 ora Ettore Giannotti Alessio Salis va dentro errore rimbalzo di Peralta Maras poi Usai scarica per il tiro di Pugioni non va poi il canestro di Usai ora Ettore Giannotti prova ad andare Stefano Comiti sotto per Ettore Giannotti per Alta e li ruba il pallone ancora Maras per un tiro di Usai che va a segno 25 a 21 ora però provare a girare la nuova con Ettore Giannotti Alessio Salis Stefano Comiti Edoardo Ligia Alessio Salis fuori pallone per la Dinamo 2000 con Maras pronto un cambio nella nuova va numero 19 Pugioni poi per Alta spalla canestro si gira errore rimbalzo di Secchi tiro e segna 25 a 23 per la Dinamo 2000 per la nuova scusate ora Ettore Giannotti Ioriste Murtas tiro di Edoardo Ligia errore rimbalzo della Dinamo 2000 con Secchi poi Maras tiro di Usai errore rimbalzo del numero 19 Pugioni errore Edoardo Ligia ha provato ad andare e poi Ioriste Murtas tiro errore Pedralza poi Usai Maras tiro errore per Alta c'è il fallo di Ioriste Murtas col canestro 25 pari tiro libero supplementare per la Dinamo 2000 entra Damiano Malleo esce Edoardo Ligia per la nuova tiri liberi per per Alta tiro libero errore rimbalzo dietro Reggiannotti fallo del numero 53 Secchi Secchi due tiri per la nuova perché è in bonus tiri liberi per Ettole Giannotti non va il primo va il secondo 25 26 25 per la nuova Maras prova ad andare poi Usai cerca il taglio di un compagno per Alta anticipato da Ioriste Murtas Damiano Malleo passi passi di Damiano Malleo ora cambiano la nuova esce Stefano Comiti entra Davide Sanna rimessa per la Dinamo 2000 affidata al numero 19 Pogioni poi Maras tiro errore rimbalzo di Peralta chiudo da due giocatori poi Usai da tre errore rimbalzo di Secchi poi poi Peralta c'è il fallo di Ioriste Murtas secondo fallo tiro liberi Peralta è il numero 21 della Dinamo 2000 primo non va secondo non va rimbalzo di Ioriste Murtas Damiano Malleo provava ad andare Ettore Giannotti troppo lunga per lui rimessa per la Dinamo 2000 esce Alessio Salis entra Federico D'Agostino per la Nova rimessa per la Dinamo 2000 pressing a tutto campo dalla Nova scivola per Alta Usai cambia nella Nova nella Dinamo 2000 esce per Alta entra con il numero 14 Muritti rimessa per la Nova Davide Sanna per Ioriste Murtas che la prende poi Federico D'Agostino mette giù palla provato ad andare con Ioriste Murtas Ettore Giannotti va dentro e non c'è il fallo va numero 10 Usai Marras sotto per Secchi tiro errore rimbalzo di Ioriste Murtas Damiano Malleo Federico D'Agostino tiro errore rimbalzo di Marras ora Usai va dentro stoppatone di Damiano Malleo che nega il canestro a Usai rimessa per la Dinamo 2000 con Muritti Marras per Usai sotto per Muritti tenuto da Damiano Malleo c'è la palla 2 pallone per la Dinamo 2000 perché la freccia indica possesso Dinamo 2000 rimessa affidata a Muritti sotto per Marras Usai tiro errore Ettore Giannotti prova ad andare tra due avversari c'è il fallo del numero 53 che Secchi che spinge tiri liberi per la 9 il quarto fallo di Secchi cambio nella Dinamo 2000 entra Saba esce Secchi che ha 4 falli ora tir liberi per Ettore Giannotti il primo errore sul primo ferro secondo andiamo un po' va Colchia 26 a no 27 a 25 per la Nova due minuti alla fine del secondo quarto non la tocca Davide Sanne rimessa per la Nova Federico D'Agostino accelera prova ad andare dentro poi scarica per Davide Sanna Ettore Giannotti Federico D'Agostino Iuris De Murtas Damiano Malleo Davide Sanna sotto per Damiano Malleo Davide Sanna tiro la palla si ferma sul ferro palla 2 possesso per la Nova cambiano la Dinamo 2000 no time out per la Dinamo 2000 piccola pausa e poi torniamo si ricomincia dopo il time out per la Dinamo 2000 rimessa per la Nova Damiano Malleo per Edoardo Ligia tiro errore Damiano Malleo 29 a 25 la Nova attenta al distacco ora Saba ora Usai va dentro fermato c'è l'infrazione di piede non fischiata ora il tiro di Marras con un po' di fortuna la mette dentro 29 a 27 partita punto a punto un minuto alla fine del primo del secondo quarto infrazione di passi di Ettore Giannotti rimessa per la Dinamo 2000 Saba poi il numero 20 no il numero 10 Usai Saba Marras ora poi ancora Saba palla rubata da Damiano Malleo Federico D'Agostino si mette l'arbitro in mezzo e impedisce Federico D'Agostino di recuperare il pallone quindi rimessa per la nuova ora proprio Federico D'Agostino prova ad andare 21 secondi va Federico D'Agostino Ettore Giannotti si fa tutta l'aria di 3 secondi tiro di Damiano Malleo cioè rimbalzo di Damiano Malleo e va a segno 31 a 27 2 secondi 1 e finisce così il secondo quarto con la nuova avanti 29 a 27 piccola pausa e torniamo per commentare i secondi i due successivi quarti che quarto è questo secondo ora devono andare D'Agostino D'Agostino Giannotti errore rimbalzo di Damiano Malleo che segna volevo ricordare che c'è stato un canestro 35 a 29 il punteggio ora va per alta poi Castecchini sotto per per alta errore rimbalzo di nuovo suo tiro del numero 7 Nurra che sbaglia ora Edoardo Ligi apre per Davide Sanna Ettore Giannotti tiro errore va Saba da solo tiro di per alta non va ora Ettore Giannotti per Ioris De Murtas 37 a 29 per la nuova ora valla di 2000 con Usai sotto per Saba tiro becca di Saba ora Ettore Giannotti va dentro sotto mano errore rimbalzo di Damiano Malleo Leonardo Ligia Ettore Giannotti palla fuori esce nella Dinamo 2000 per alta entra Secchi ora proprio la Dinamo 2000 con Usai poi Saba Nurra Castelchini Secchi il tiro di Nurra non va rimbalzo di Ioris De Murtas il pallone per non so neanche l'arbitro per la Dinamo 2000 esce il numero 53 Secchi entra per alta rimessa affidata per alta poi Usai va in palleggio scarica per Castelchini tiro errore ma c'era stato prima il fallo di Damiano Malleo primo fallo per lui secondo rimessa per la Dinamo 2000 per alta Nurra inflazione di passi per Nurra ora va la nova con Ettore Giannotti 37 a 31 per la nova scarica scarica per Davide Sanna c'è stato il fallo del numero 20 Castelchini rimessa per la nova fidata Stajiris De Murtas Ettore Giannotti poi dentro per Edoardo Lisa fa la rubata da Peralta che apre per Saba Ettore Giannotti la tocca rimessa per la Dinamo 2000 Saba dentro per Peralta anticipato da Damiano Malleo poi il fallo del numero 20 Castelchini le tentative di fermare Damiano Malleo rimessa per la nova Ettore Giannotti provate ad andare tiro errore rimbalzo di Ioris De Murtas no Usai Peralta poi Saba perde palla rimessa per la nova va sotto poi Damiano Malleo errore rimbalzo di Saba Usai 37-31 per la nova poi Castelchini poi Peralta alza la parabola cortissimo ora Ettore Giannotti sotto per Ioris De Murtas errore rimbalzo di Edoardo Ligia che esce Ioris De Murtas si prende il tiro lo manda a segno 39-31 per la nova e poi va e poi va la Dinamo 2000 con Saba sotto per per alta tiro da 3 di Usai errore Ioris De Murtas Ettore Giannotti provo ad andare e poi va a andare dentro sotto mano errore Edoardo Ligia errore rimbalzo di Nurra pallone strappato da Ettore Giannotti Damiano Malleo pallone anticipato poi va a Saba fallo di Damiano Malleo che era fermo fischiato il fallo a lui secondo Camion la Dinamo 2000 e c'è Castrecchini entra Marras tiri liberi per Saba e c'è Damiano Malleo entra Mario e salta la macchia tiro libero per Saba corti cioè bruttissimo secondo sul primo ferro rimbalzo di per alta tiro errore rimbalzo di Edoardo Ligia Ettore Giannotti poi Mario salta la macchia prova ad andare dentro poi pallone sotto per Ettore Giannotti lo anticipa il 35 Marras rimessa per la Dinamo 2000 tema auto intanto per la Nova quando siamo 39 e 31 piccola pausa ricomincio dopo il team out per la rimessa affidata al numero 53 secchi pallone di nuovo per la Dinamo 2000 nuovo secchi alla rimessa Marras fallo di Ettore Giannotti messa per la Dinamo 2000 Saba alla rimessa Marras Usai Turra dentro un bel canestro della Dinamo 29 a 33 ora Mario solta la macchia per Ettore Giannotti nuovo per Mario solta la macchia fa la persa Saba Marras nuovo l'arbitro in mezzo poi Mario solta la macchia prova ad andare dentro fermato poi la recupera Davide Sanna D'Ordoligia tiro da fuori da 3 42 a 33 per la nuova poi passaggio alle nuvole del numero 6 Saba rimessa per la nuova ora Mario solta la macchia prova ad andare sotto per Davide Sanna non c'è il fallo rimessa per la Dinamo 2000 esce Nurra entra Cedda rimessa per la Dinamo 2000 Usai Marras sotto per Secchi errore Davide Sanna prova ad andare sotto mano errore rimbalzo di Cedda Marras Palleggio arresto tiro errore rimbalzo di Ettore Giannotti va dentro Mario salta la macchia la tocca all'ultimo rimessa per la Dinamo 2000 Usai Saba Saba prova ad andare dopo la deviazione dietro Reggiannotti cedda di nuovo sotto per Saba scivola va Davide Sanna si ferma inflazione di passi di Davide Sanna ora ora Saba per la Dinamo 2000 Marras fallo Di Mario salta la macchia rimesso da lato per la Dinamo 2000 primo fallo Di Mario salta la macchia Usai tiro errore rimbalzo di Ioris De Murtas che prova ad andare aspetta i compagni poi Mario salta la macchia scarica per Ioris De Murtas Ettore Giannotti due minuti e 52 alla fine del terzo quarto Mario salta la macchia poi Edoardo Ligia lo vado ad andare tiro e segna 44 a 33 cambiano la nova due cambi pronti per la nova entra Damiano Malleo al posto di Edoardo Ligia sembra essersi fatto male ci auguriamo di no per lui poi al posto di Davide Sanna entra Alessio Salis poi va la Dinamo 2000 con Marras poi Cedda Saba pallone toccato dalla nova ancora Saba Usai ancora per Saba prende la tripla la manda a segno 44 a 36 per la nova pallacanestro ora Mario salta la macchia Damiano Malleo Dettore Giannotti Alessio Salis Mario salta la macchia giro palla per la nova Mario salta la macchia c'è il fallo del numero 53 del numero del numero Saba ha preso un colpo alle parti basse il numero 53 che esce al posto del numero 21 per alta triliberi per Mario salta la macchia primo col Ciaff 45 a 36 per la nova secondo errore rimbalzo di Ioris De Murtas intercettato da Saba che prova a partire poi Cedda inflazione di no fine terzo quarto 45 a 36 per la nova piccola pausa e poi torniamo per commentare l'ultimo quarto si riprende con l'ultimo quarto pallone per la Dynamo 2000 rimessa Usai Saba poi per alta troppo lungo Damiano Malleo palla per la nova per la canestro Mario salta la macchia e prova a partire scarica per Ettore Giannotti che non la tiene in campo rimessa per la Dynamo 2000 esce esce Saba nella Dynamo 2000 entra numero 50 Nigra ora va alla Dynamo 2000 Marras che perde la palla ora Alessio Salis dentro canestro per la nova 47 a 36 56 secondi alla fine del terzo quarto non era finito scusate tiro da tre ora di Marras lo manda a segno 47 39 46 secondi era un team out quello di prima Alessio Salis fallo di Nigra 38 secondi alla fine del terzo quarto Iuris De Murtas Mario salta la macchia Ettore Giannotti provo ad andare alza la parabola errore c'è un momento di discussione non si sa per cosa forse per il tempo non si capisce da qua su comunque sappiamo solo che è rimasta per la nova con Mario salta la macchia Iuris De Murtas Alessio Salis tiro errore il ribalzo di Damiano Malle errore per alta 16 secondi Usai succeda 4 secondi 3 secondi 2 secondi 1 fallo non arriva il fallo finisce così il terzo quarto con la nova avanti 47 39 piccola pause poi torniamo per commentare l'ultimo e decisivo quarto si ricomincia con l'ultimo quarto con la nova avanti 47 39 primo pallone proprio per la nova Edoardo lì Ettore Giannotti Mario salta la macchia Edoardo Ligia da 3 punti sul primo ferro si spende questo tiro ora va la Dinamo 2000 con Maras fallo della difesa Madalenina fallo del numero 5 Ettore Giannotti ora Usai sotto per per alta pallone anticipato qua Alessio Salis scarica per il tiro di Mario salta la macchia poi Damiano Malleo ora Nurre in contropiede per alta poi poi Secchi tiro di Maras non va ma adesso salta la macchia prova a partire contro il gigante della Dinamo 2000 per alta due tiri per la Nova per la canestro Mario salta la macchia Mario salta la macchia primo a Colchaff 48 a 39 per la Nova secondo Colchaff anche il secondo 40 49 a 39 ora Maras ottiene Mario salta la macchia Usai qui Maras Secchi provano ad andare scarica per per alta tiro da tre punti errore rivolto di Maras scivola Mario salta la macchia sotto per per alta risfugge il pallone 49 39 per la Nova 8 minuti alla fine dell'ultimo quarto rimessa per la Nova con Edoardo Ligia poi Ettore Giannotti pallone perso dalla Nova Usai Mara Maras provo ad andare c'è il fallo di Ettore Giannotti ed è il suo secondo fallo 49 a 39 per la Nova ora Mario solta la macchia prova a recuperare il pallone lo recupera va dentro errore poi Ettore Giannotti Damiano Malleo tiro errore per la Nova smanaccia poi Maras e recupera il pallone Nurra infrazione di passi rimessa per la Nova Damiano Malleo va la rimessa ora infrazione di passi di Damiano Malleo guarda va la Dinamo 2000 con Usai guarda ma spalla canestra tiro errore palla per la Nova Damiano Malleo Ettore Giannotti Mario salta la macchia per Ettore Giannotti tiro fallo di Peralta ed è il vedremo un po' il suo terzo fallo personale poi esce Mario salta la macchia buona prestazione fino adesso per lui entra Federico D'Agostino tiro libero per Ettore Giannotti col Ciaffi il primo secondo errore ribalzo di Federico D'Agostino soppata di Peralta guarda Ettore Giannotti va dentro tiro e un'altra soppata di Peralta ora Usai prova a chiudere la Nova pallone per Peralta errore al tiro per lui ancora Alessio Salis Federico D'Agostino prende il tiro errore va Marras per la Dinamo 2000 poi va Nurra dentro c'è il fallo di Damiano Malleo terzo personale per lui terzo fallo tiro liberi per Nurra numero 7 della Dinamo 2000 primo non va 50 39 per la Nova secondo errore anche nel secondo palla per la Nova esce per alta per la Dinamo 2000 entra Cedda team out proprio per la Dinamo 2000 piccola pausa e poi torniamo si ricomincia dopo il team out con la rimessa per la Nova è data a Edoardo Ligia non rientra in campo la Dinamo 2000 la Nova è già posizionata rimessa per la Nova Edoardo Ligia Federico D'Agostino Edoardo Ligia prima partita e qui c'è il fallo ed è il quinto per il numero 53 Secchi al suo posto entra Saba con il numero 6 parane per Damiano Malleo provo ad entrare arresto sotto per Federico D'Agostino e c'è il canestro si applaude da solo 42 a 39 fallo fallo di Federico D'Agostino rimessa per la Dinamo 2000 con Marras provo ad andare tiro di Nurra errore rimbalzo di proprio suo e tiro e stavolta lo mette 52 a 41 per la Nova quando mancano 6 minuti alla fine del secondo dell'ultimo quarto ora Federico D'Agostino si gira in piede perno scarica per Damiano Malleo una finta va dentro tiro di Alessio Salis prova il tiro stoppata di Cedda poi ancora Damiano Malleo tiro errore rimbalzo ancora suo pallone per la Dinamo 2000 di là con Marras poi va Nurra forse con un'infrazione di passi rimbalzo di Edoardo Ligia pallone per la Nova poi va Ettore Gianotti ancora Ettore Gianotti resiste all'attacco di del numero 10 in verde della Dinamo 2000 Usai ed è il suo secondo fallo va rimessa per la Nova con Ettore Gianotti sotto per Damiano Malleo si gira in piede perno gran canestro gran canestro 54 a 41 ora Murra tiro al canestro 54 a 43 per la Nova 5 minuti alla fine del ultimo quarto e ultimo quarto cambia nella Nova esce Alessio Salis buona prestazione per lui entra Stefano Comiti 4 minuti 4 minuti alla fine ora Edoardo Ligia sotto per Damiano Malleo forse di forse di piede no Usai prova a partire per la Dinamo 2000 Marras Nurra tiro e c'è 54 a 45 va la Nova Ettore Gianotti va ancora Ettore Gianotti palla per la Dinamo 2000 palla per la Dinamo 2000 incredibile va Saba di nuovo dalla stessa posizione Nurra errore poi Saba Nurra per il tiro da 3 di Saba errore rimbalzo di Damiano Malleo Ettore Gianotti palla intercettata da Nurra cambiano nella Nova esce Ettore Gianotti entra Davide Sanna che è il numero 5 entra il numero 6 pronto anche Matteo Cuccu per la Nova poi palla intercettata dalla Dinamo 2000 parla per la Dinamo 2000 con Saba poi palla intercettata dalla Federico D'Agostino Federico D'Agostino forse c'era anche il fallo 56 a 45 per la Nova no non forse c'era il fallo però 56 a 45 per la Nova Usai errore rimbalzo di Cedda tiro errore va la Nova con Davide Sanna va lo Comiti Stefano Comiti pronto Matteo Cucco e Ioris De Murtas per la Nova ancora Stefano Comiti prova ad andare passi di Davide Sanna passi di Davide Sanna esce Edoardo Ligia al posto di Ioris De Murtas e Federico D'Agostino al posto di Matteo Cuccu buona prestazione per lui 56 a 45 per la Nova due minuti alla fine dell'ultimo quarto va la Dinamo 2000 con Saba poi Cedda ancora per Saba pallone intercettato poi recuperato la Cedda Nurra va dentro errore Matteo Cuccu cerca Ioris De Murtas e qui non c'è il fallo Davide Sanna tiro errore rimbalzo di Cedda Marras ancora Marras e c'è l'infrazione di passi nel numero 6 Saba protestano i tifosi della Dinamo 2000 ma era evidente l'infrazione di passi rimessa per la Nova team out per la Dinamo 2000 56 a 45 per la Nova piccola pausa si ricomincia dopo il team out la Dinamo 2000 non è ancora in campo pallone per la Nova con la rimessa affidata a Davide Sanna Ioris De Murtas palla per Davide Sanna tiro errore rimbalzo suo scarica per Ioris De Murtas tiro grande canestro 58 a 45 per la Nova pronti due cambi entrano Paolo Niedu giocatore di Santa Teresa e poi Fabio Marini va poi il numero 10 usa il fallo di Ioris De Murtas due cambi nella Nova escono Ioris De Murtas entra Poloni edu e poi esce Damiano Malle entra Fabio Marini tiro liberi Poladino 2000 Usai va il primo 58 a 46 va il secondo identico spiccicato al primo ora va la Nova con Stefano Comiti alla persa Usai Cedda errore tiro di Nurra da tre errore rimasto di Cedda tiro errore rimasto di Stefano Comiti che prova ad andare Davide Sanna sotto per Stefano Comiti pallone perso c'è il fallo di Stefano Comiti che dice dov'è 58 a 47 per la Nova un minuto e 06 per la precisione alla fine tiri liberi per la Dynamo 2000 primo fallo di Stefano Comiti tiro libero tiri liberi per la Dynamo 2000 Nurra primo non va secondo non va rimasto di Cedda poi Nurra tiro Carrora rimasto di Cedda Ida e Seglia ora Davide Sanna lo vado ad andare Matteo Cucu perde palla 58 a 49 per la Nova 47 secondi ora Usai cerca Nurra troppo lungo il pallone per lui rimasto per la Nova poi Stefano Comiti Davide Sanna ancora Stefano Comiti non trova nessun giocatore trova Matteo Cucu prova ad andare si gira tiro corto ribalzo di Stefano Comiti Paolo Niedu Fabio Marini bravo Matteo Cucu ah si inflazione di passi 58 a 49 11 secondi rimessa per la Dynamo 2000 con Saba che prova ad andare parte il tiro da 3 lo sbaglia Marras 5 secondi tiro errore Urra tiro errore imbalzo di Fabio Marini finisce qui la Nova vince 58 a 49 andiamo a sentire le interviste al mondo campo della delle due squadre comunque alla prossima da Matteo Migliaccio siamo con il coach Stefano Mandras allora coach come una partita combattuta cos'è cosa è andato e cosa cosa ne è andato non è andato che molte volte un po' diciamo così precipitosi nel cercare di concludere le azioni non abbiamo abbiamo difeso poco pochi taglia fuori al rimbalzo soprattutto va beh rispetto alla partita precedente è andato molto molto meglio però sì sono contento sicuramente possiamo fare molto molto di più ci stiamo lavorando e vediamo un attimino spero nelle prossime partite qualche risultato positivo perché i ragazzi comunque lavorano si impegnano ci manca ancora diciamo un po' il campo un po' di cattiveria un po' di cattiveria agonistica chiaramente sarà una cattiveria però ci stiamo lavorando siamo con il coach Claudio Moredo com'è andata la partita ma tutto sommato bene una bella risposta da parte dei nostri qualche assenza a livello di attenzione che infatti ci hanno fatto pagare una bella squadra anche la loro siamo riusciti all'ultimo per quanto ci dispiace a far entrare solo i nuovi arrivati che stanno imparando la palla canestro però tutto sommato una bella partita una bella manifestazione sportiva oggi un bravo ai miei ragazzi e un complimenti all'altra squadra assolutamente siamo con il coach in especa e allora bellissima partita Paolo ci racconti un pochettino un po' come è andata la partita è andata diciamo abbastanza bene ancora i miei ragazzi fanno un po' di errori però insomma sono abbastanza contento non hanno mollato fino alla fine non è stata una partita semplice da vincere ancora per noi perché non siamo una mazza squadre facciamo ancora tantissimi errori però ho visto anche oggi della crescita e sono contento e rassiune gli spogliatori cosa stanno facendo qualche sono sempre abbastanza tranquilli e ordinati non si scompongono molto comunque sono contenti per la prima volta essere primi in classifica alla seconda magari con qualcun altro insomma va bene grazie al coach Paolo